Ragazzi buongiorno e bentornati in un nuovo video. Settimana scorsa non sono uscito con un video perché purtroppo ho avuto veramente un sacco di cose da fare e ne ho approfittato invece questo fine settimana con la pioggia incessante, non so voi dove abitiate ma da me sta venendo giù il diluvio universale ormai da giorni e quindi ho voluto inserire in questo video due video registrati in studio, uno un pochino più lungo l'altro molto molto breve che fanno parte dello stesso trattamento all'interno di un trattamento di una persona, ok? Per un problema particolare e quindi volevo spiegarvi un attimino prima come procedere alla visualizzazione, all'analisi del video che vedrete perché come al solito vi ripeto che i video che faccio non sono tanto per dare uno spettacolo, creare un intrattenimento, ok? Ci sono altre figure che lo fanno, altri terapeuti che lo fanno in questo senso su YouTube, ma per cercare di darvi un'idea di quello che succede nelle tecniche osteopatiche, in alcune almeno di queste, dal punto di vista sia del paziente, quindi interno corporeo, sia del terapeuta dal punto di vista tecnico, quindi se ci sono dei terapeuti di qualsiasi genere e guardano queste tecniche capiscono in maniera più concreta quello che si fa a livello meccanico, a livello scientifico, se così possiamo chiamare, e dal punto di vista, diciamo, del trattamento più in generale, che cosa, perché si scelgono certe tecniche all'interno di un panorama di tecniche di trattamento. Quindi diciamo che i miei video sono sempre fatti, come lo sapete, per dare delle informazioni, poi chi vuole informarsi, approfondire, se approfondisce in base all'ambito di cui fa parte. Allora, oggi vediamo quindi due video fatti sulla sfera cervicale, anzi, meglio craniale. Perché? Perché, come al solito, come vi dico, le tecniche craniali sono tecniche molto interessanti, molto importanti dal punto di vista del panorama tecnico-osteopatiche, perché fungono da accesso, da regolatore del sistema nervoso autonomo. Questa cosa, se avete visto già un po' di miei video vecchi, sapete che ci sono tutta una serie di metodiche per poter andare a toccare questi tasti che vanno a interagire con il sistema profondo autonomo della persona. Le tecniche craniche sono una di queste tecniche, almeno sono le tecniche forse fondamentali per entrare in questo mondo. Poi, ovviamente, ci sono le tecniche biodinamiche che sono ancora più profonde e ancora più fini, però esurano un pochino dalla osteopatia classica e quindi sono delle tecniche che possiamo prendere in considerazione, ma le dovremmo prendere a parte. Le tecniche che vedremo sono semplicissime, almeno da quello che si vede dal video sono semplicissime. Poi, in realtà, il difficile è esercitare il vettore corretto, la pressione corretta per il tempo corretto. Quindi sono facili da vedere, però poi bisogna imparare a farle. Come si fanno a imparare queste tecniche? Bisogna osservare, bisogna provare, bisogna sbagliare e magari avere qualcuno che ci corregge e bisogna chiedere anche a chi sta sotto le nostre mani, perché questo ci dà un sacco di feedback per poter migliorare. La prima tecnica che andremo a vedere è una tecnica di decompressione della fossa cranica posteriore, che sembra una cosa esagerata, ma in realtà non è nient'altro che un tentativo con le nostre mani di rilasciare la tensione di tutta la zona posteriore del cranio, che sappiamo essere associata a una marea di stimolazioni muscolari, legamentose, viscerali, sia la parte addominale sia la parte cranica, quindi l'occhio, la mandibola, la lingua, eccetera. Quindi è una zona molto importante, è un baricentro di casino che c'è nel nostro corpo e se riusciamo ad andare a rilasciarla, se ci sono delle tensioni importanti, abbiamo già fatto una bella cosa, abbiamo già fatto partire tutta una serie di destrutturazioni, di modelli, di pattern, di tensioni, che poi con altri tipi di tecniche possiamo andare a migliorare, a massimizzare. La seconda tecnica invece è una tecnica di tipo manipolativo diretto, anzi in realtà c'è una seconda tecnica, ancora prima, che è sempre una tecnica cranica, una tecnica per migliorare la mobilità della sutura occipitomastoidea, dopodiché avremo una terza tecnica, quella che vi stavo spiegando prima, che è una tecnica manipolativa, una HVLA sulla zona alta cervicale. E vabbè, ci saranno dei dialoghi tra me e la mia paziente, anche un po' da ridere, perché effettivamente io lavoro in questo senso qui, dove spiego il perché ci sono anche, e sono anche nate, soprattutto sul trattamento della prima vertebra cervicale, l'Atlante, vi dico solo questo, però poi dovrò andare a coprire per motivi di non avere problemi legali o di diffamazione, la ditta che ha creato questo tipo di trattamento, però chi vuol capire capisca, l'Atlante, la prima vertebra cervicale, è stata poi soggetta a un'attenzione mediatica particolare e sono nate tutta una serie di, tutta una serie, una grossa tecnica, possiamo chiamarla così, piuttosto che un grosso tipo di trattamento, che è, diciamo, che è partita con l'idea di riuscire a curare tutta una marea di problematiche che, secondo me, non fa, però non la, non la, non c'eremo, io metterò un bel bip e voi vi vedrete il video e poi chi capisce, capisce. Detto questo, quello che voglio, voglio spiegarvi prima di vedere questi video, è una domanda che mi sorge sempre, che effettivamente tante persone mi fanno in studio, ma l'osteopata dove va inserito? Cioè l'osteopata è un, è uguale al chiropratico? Ne abbiamo già spiegato le differenze in un vecchio video. Posso andare dall'osteopata per questa cosa? Posso andare dal massaggiatore? È meglio andare dal fisioterapista? Allora, cerchiamo di dare una visione solo per quanto riguarda l'osteopatia. Così le altre figure non ne parliamo, le lasciamo perdere, ma ognuno sa che hanno delle peculiarità, ognuno le proprie. L'osteopata non va a trattare il sintomo, o almeno può andare a trattare la zona sintomatica. Quello che si preclude, invece, è quello di andare a trattare determinate zone del corpo che hanno un problema, ok? Il problema qual è? Una restrizione di mobilità, che può essere una mobilità interna o una mobilità dei tessuti, ok? Un elasticità, chiamiamola così. Questa cosa dovrebbe essere indirizzata al migliorare la fisiologia di un sistema più complesso, di varie figure, vari fattori, e questa cosa dovrebbe dare il via, o dovrebbe rimettere in moto, l'autoguarigione del corpo. Sembra un po' fantascientifica, ma in realtà è una cosa molto banale, cioè noi, il sistema nostro di autoguarigione è attivo sempre. Pensate quando vi tagliate e il vostro corpo che si ripara da solo, non c'è bisogno di altro. Poi, ovvio che se abbiamo un taglio molto profondo, dove può infettarsi, dove ci sono una serie di problematiche, prendere gli antibiotici e mettere dei punti per velocizzare la chiusura, avere una cicatrice anche migliore, è assolutamente una cosa intelligente. Però, noi abbiamo un sistema che anche in quel caso può cavarsela da solo. Poi, magari ci viene un'infezione, ma la maggior parte delle volte non ci viene, perché il sistema si ripara automaticamente. Ovvio che il terreno sotto questo sistema deve essere buono, altrimenti, se ci sono tutta una serie di piccole problematiche, il meccanismo può incepparsi. E qui entra la figura dell'osteopata, che è una figura che dovrebbe normalizzare le strutture, quindi non sbloccare una vertebra, non dovrebbe far muovere meglio il fegato, no. Queste cose qui sono delle diciture che ingannano. Inganano le persone, ingannano anche i terapeuti che poi, a furia di dirle, anche magari per semplificare la comunicazione, si ingannano da soli. Quindi, quello che fa l'osteopata è normalizzare delle strutture. Normalizzando queste strutture ci si aspetta un miglioramento della sintomatologia o un miglioramento della salute, perché a volte il paziente non ha neanche una sintomatologia. Questa cosa è interessante perché poi, a livello legislativo, l'osteopatia è stata introdotta l'anno scorso, fine 2023, proprio nella sanità preventiva. E effettivamente è corretto, perché l'osteopatia può essere utilizzata come materia sanitaria per curare, quindi curativa, ma anche preventiva, quindi con un soggetto che non ha particolari problemi, ma vuole andare a migliorare il suo stato di salute. Anche il nutrizionista può essere visto in questo modo, anche lo psicologo può essere visto in questo modo e altre figure. Quindi, effettivamente, questa è una direzione molto intelligente. Piccola postilla prima di lasciarvi ai video. Vedrete che io sono sempre vestito con una t-shirt di un certo genere, molto easy. Nei video precedenti mi avete visto con magliette che inneggiavano alla salvaguardia degli animali, l'essere vegan, piuttosto che delle magliette molto molto semplici. Perché ve lo dico? Perché il fatto di comunicare con una persona che viene a farsi trattare da me con una barriera, perché per me, in questo caso, è una barriera e non è un qualcosa, un oggetto facilitatore per la terapia. Il fatto di avere un camice, il fatto di avere delle ciabatte, dei classici zoccoletti da medico, infermiero, operatore sanitario, il fatto di avere una scrivania molto ampia, una sedia diversa io da quella del paziente, questa cosa qua mettono sicuramente in soggezione la persona, dividono i ruoli, sembra una cosa banale ma è così, dividono il ruolo del medico dal ruolo del paziente. Il medico è quello che sa, quello che dice e quello che detta le regole, mentre il paziente è quello che invece deve capire, quello che subisce il trattamento. Secondo me non è corretto. Ci sono delle barriere che sono il camice, per esempio, che ci divide, ci dà un certo tipo di abito che dà una struttura di un certo genere al nostro rapporto. Per me è una cosa che non va bene, non mi piace, nel tempo l'ho utilizzato anche io all'inizio e sono anni che non utilizzo più. Quindi, come mi vedete nei video, io poi sono realmente in studio. Scarpe da ginnastica, pantaloni normali, maglietta, maniche corte. Un secondo solo. Cosa state combinando voi? Scusate, ma avevo il cane che mordeva una pianta qui in mansarda. Detto questo, io ho eliminato tutta questa serie di barriere che però eliminano anche quel rapporto, quella divisione che c'è tra i ruoli. Quindi è facile poi mischiarsi un pochino e diventare più confidenti con il paziente. Ovvio che questo deve essere la capacità del terapeuta di dividere le cose e dire ok, oggi siamo qui, magari ci conosciamo anche, siamo anche amici al di fuori, siamo conoscenti, ci siamo scambiati tutta una serie di informazioni, ok, però comunque io rimango il terapeuta in questo momento, sto cercando di fare un lavoro su di te, con te, e quindi portiamo avanti un certo tipo di relazione. Al di fuori di qui chiudiamo la porta, andiamo a mangiare, a farci un pranzo o a fare una passeggiata insieme, non è un problema. Però dentro nello studio non deve essere una struttura come il camice per me che divide i ruoli, ma deve essere semplicemente la capacità della persona e anzi, tolta tutta questa serie di schermature, il rapporto e il trattamento devono essere il più semplici possibili. Questo ovviamente deve essere supportato anche da una capacità del terapeuta di dialogare, di parlare, di dare un'idea al paziente di professionalità, capacità di mettere in atto quella professionalità teorica nella pratica. Altrimenti, il paziente può essere banalmente ingannato da tutta questa serie di schermature, ma poi al di sotto il terapeuta, il medico, quello che sia, non ha queste grandi capacità. Detto questo, che volevo dirvelo per darvi un'informazione in più perché qualcuno mi ha chiesto, vi lascio al video, anzi, prima la sigla, poi il video, mi raccomando se vi piace spuntate la campanella, iscrivetevi al canale, mettete un like, fate tutte le solite cose perché sennò YouTube non mi butta, non mi condivide in giro. Basta se il video vi è piaciuto o fate tutto questo e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Senti che qui abbiamo il nostro solito durone, no? Sì. Tutto bello rigido, ok? A noi ce ne freghiamo altamente nella tua cervicale, mettiamo le dita sulla mastoide del temporale, si dice, il temporale poi continua con la squama dell'occipite, ok? Quindi a noi interessa quello che c'è dentro nel cranio. Fai conto che a questa altezza qui, esterno al cranio, dove sono io con le dita, abbiamo due linee, una si chiama linea nucale superiore e l'altra linea nucale inferiore. Si agganciano per esempio i trapezzi, gli spleni, dei muscoli posteriori del collo. Ok? A noi non ce ne frega nulla di loro, quindi non dobbiamo andare a fare un lavoro diretto sui muscoli esterni. La mia pressione è minima, giusto? Sì. Ok. Comincio a... Mi metto, diciamo, non comincio, mi metto in ascolto di un ritmo, che può essere un ritmo un po' particolare, perché non è un ritmo cardiaco, non è il ritmo respiratorio, è un ritmo molto più lento che potrebbe essere quello cranico, potrebbe essere quello dei tessuti connettivi. In realtà ci sono tante teorie, ma ci sono tanti dubbi, quindi non c'è nulla di certo. Ora, se tu ascolti bene, io adesso seguo questo ritmo che è... ci porta un pochino a ruotare, non è un ritmo lineare. Io lo seguo e me ne frego altamente di quello che fa lui. Quindi non lo induco, non vado contro una barriera. Vediamo che cosa combina sta roba qua. se è fermato. adesso sta quasi ruotando in avanti, come se il mento si avvicinasse allo sterno, per darti un'idea. però c'è differenza tra il destro e il sinistro, eh? Dei punti dove sono io. Il punto di sinistra è come se fosse più rigido, più denso alla mia palpazione. Quindi dopo magari facciamo una tecnica diretta su una sutura cranica, che si chiama cipitomastroidea, che sta su quella zona lì. Che è una sutura che ha a che fare con tre nervi in uscita da lì. Ed è proprio la parte di fuoriuscita di aggancio fasciale di questi tre nervi, che partono dal cranio e vanno verso la gola e il torace. Sono nervo freni, eh sì, nervo freni, nervo vago, l'accessorio e il glossofaringeo. Il nervo vago è quello che può interessarci di più. Ok, sta mollando finalmente. Questa su di te è una tecnica generalista, cioè devo cercare di spazzare via più tensioni possibili perché non capisco un cazzo. La verità è che non riesco a capire se c'è una disfunzione dietro, sicuramente la tua parte cranica posteriore funziona meno bene di quella anteriore, c'è meno ritmo, meno forza, meno ampiezza e quindi devo cercare di fare delle tecniche per cercare di pulire le tensioni, rivalutare e vedere se ci sono cose specifiche. Allora a quel punto lì facciamo un lavoro più diretto. fai conto che però la zona posteriore del cranio, quindi occipite, parte posteriore temporale, prime due vertebre cervicali, hanno a che fare tanto sia con la masticazione e lì ci mettiamo anche la terza cervicale, con la coordinazione della messa a fuoco dell'occhio, con l'arrivo del nervo vago, quindi tutte quelle informazioni che arrivano dal 90% se non 95 dei visceri e degli organi dell'addome e del torace e poi è una zona che può avere a che fare con diversi tipi di traumi perché è una zona con una meccanica un po' particolare. Quindi tu mi hai accennato un colpo di frusta? Sì. Quella zona lì è una zona interessante, anche se poi il colpo di frusta di norma va ad impegnare per motivi statistici più che meccanici la vertebra C5 o C6 è quella diciamo è una vertebra un po' più al centro della curva cervicale quindi di fatto è quella che può subire di più il cambiamento della tensione cervicale è quella più indentro in una curva la chiave di volta della curva cervicale se la curva si rettilinizza come ce l'hai tu per esempio perché è una colonna molto rigida molto dritta è ovvio che quella che soffre di più come vertebra e come forma come funzione è quella che dovrebbe stare più arcuata dritta possibile invece cazzo è la più dritta possibile comunque qua intanto sta girando sensazione che hai tu per essere ferma ruota cosa succede? ruota e è molto morbida adesso è diverso adesso per esempio si è fermata a destra sembra che c'è un piccolo rilascio adesso come se si stesse rilasciando tutto tutto sta tornando centrale ok e ho quasi adesso uno sgancio della cervicale col cranio come se si stesse allungando bene è una buona cosa vuol dire che c'è un rilascio di alcuni tessuti profondi ok vediamo se è cambiato qualcosina vado in prima ma quella che mi fregava di meno perché comunque è quella che aveva già un po' di movimento anche se la destra c'è ancora un po' di rigidità vado sulla seconda e la riesco a percepire eh ok però sembra che comincia a guadagnare qualcosa mi sento molto meno dolore rispetto a e ancora ecco questa è migliorata tanto cioè adesso ho la seconda e la terza che sono quelle più ruotate la quarta già no la quinta niente quindi seconda e terza ce ne freghiamo di loro due e andiamo occipite temporale questa presa qua si chiama presa farfalla non so perché non sembra una farfalla è la presa con un dito in un orecchio non so perché l'osteopatia è chiamata presa farfalla vabbè che immaginazione ragazzi che hanno certo tecnica molto più semplice molto più meccanica quando il tuo cipite fa un movimento io lo seguo quando fa un altro non lo fa al contrario faccio il temporale quando fa un movimento non lo seguo quando ne fa un altro lo seguo molto semplice quello che succede è che devo decoattare una sutura cranica in mezzo ci passano dei nervi a me interessa allungare parolona grossa che è una sutura dura allungare un po' di più questo tessuto suturale in modo da creare una decoattazione i nervi respirano un po' di più e se sto lì un tot di tempo con un tot di forza questa sutura diventa meno pressante questa è la teoria e la pratica è un'altra cosa però noi atteniamoci alla teoria tecnica diversa da prima molto più netta molto più diretta io tiro in direzioni diverse adesso non tiro più perché si è fermato il movimento che sentivo prima aspetto solo che si rilasci in pratica è uno stretching di una sutura molto semplice che si rilasci che si rilasci è un'altra cosa che si rilasci buona C1 è talmente importante che è importante che ci hanno fatto un business in Svizzera che si chiama hai mai sentito? praticamente manipolano la C1 e tutti i tuoi problemi spariscono problemi fisici finanziari se hai il marito che scappa con l'amante non scappa più tutto tutto tu manipoli a C1 e affasso tutto io sento di quelle robe che vabbè comunque prima cervicale qua tra la prima e lo cipite abbiamo un foro foro lacero posteriore prima sui te ho fatto una tecnica sullo cipito ma sto idea dove passano quei famosi tre nervi uno di quelli è il vago in formazione dai visceri gli organi al cervello 85% del suo lavoro è questo quando manipoliamo la C1 oltre a dare una stimolazione al vago e ad altri due nervi diamo una stimolazione anche a un'arteria che si chiama arteria vertebrale che arriva proprio sotto la C1 fa una curva U e entra nel cranio ok è un'arteria periferica ok non è una carotide non è l'arteria principale la carotide comune e quella che entra nel cranio la carotide profonda e posteriore però è un'arteria importante quando manipoliamo sta C1 noi cambiamo diciamo le tensioni che ci sono tra il cranio C1 e C2 è un complesso che lavora insieme si chiama complesso Oae questo complesso qui lavora con la messa a fuoco degli occhi lavora con l'equilibrio con le orecchie interne lavora con le tensioni della gola della deglutizione della lingua della masticazione quindi cambiamo un sacco di roba ora non è che se manipoli questa poi non c'è più la luce valgo è una vertebra come tutte le vertebre ha un senso manipolarla se ci sono delle cose che vanno che non vanno su di te manipoliamo sia destra che sinistra quindi cerchiamo di svincolarla in senso laterale l'unica accortezza che bisogna avere con questa vertebra qui è quella di non manipolarla da dritta ma manipolarla più o meno a 30 gradi perché questo lavoro qua ci permette di accorciare la tensione della carotide e di non creare problemi alla parte vascolare ok la manipolazione è semplicissima si porta in compressione la c1 si tiene sulla linea la testa perché altrimenti se fai questo grosso problema questo può creare danni infatti chi crea danni fa ste cazzate qua e si vede anche nei video in giro che non li creano ma li creeranno tra un po' compressione rotazione e si aumenta la rotazione è molto semplice molto rapida non deve creare dolore se crei dolore nella messa in tensione c'è un problema non la fare che è meglio così me la lascio andare morbida estensione massima che gli do rotazione se non già barriera clau 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 clau